Burloni quest'oggi ci troviamo all'interno di un blocco dei disastri naturali questo perché all'interno di questo video dovrò portare a termine 7 missioni cercando di morire il meno possibile e facendo il più in fretta possibile perché ci sono dei disastri che potrebbero rovinarmi i piani e alcune missioni dovrò stare molto attento perché se il disastro becca anche determinate cose potrei non farle più e rovinare di conseguenza il video ma iniziamo subito ragazzi iniziamo a vedere un po' di blocchettini che io amplierei l'isola immediatamente come ben notate abbiamo una sfida che è trova 16 assi di abete io ho trovato tutti i leni possibili tranne l'abete questa cosa è incredibile ragazzi cioè veramente uno l'ho trovato fantastico allora io direi che facciamo i primi 4 cosini così di abete no di abete scusate di quercia sapete che io essendo un gran costruttore oh raga che figo ci è apparso un piccone molto bene stavo dicendo essendo che sono un grande costruttore ragazzi cioè modestamente mi piace fare le cose fatte per bene quindi non riesco oh mio dio fra poco arriva un acid storm una meteor shower tutto può succedere ma sta a succedere tu aiuto che devo fare qua aspetta mi sono coperto raga ok la situazione è un po' strana non mi aspettavo potesse diciamo venire fuori una pioggia una pioggia acida e non so se voi ne siete accorti ma mi è appena caduta una meteor in testa e sono morto siamo già morti due volte il mio obiettivo era morire due volte in tutto il video penso che abbiamo già perso la sfida però fa niente ragazzi mi facciamo così ok siamo riusciti a fare una cosa di buona è finito raga molto 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 bene però questa piccola torre qua di cobblestone io vi dico la verità la tolgo lascio solo questa qua sopra così quando arriva una pioggia acida eventualmente siamo messi bene però qua non siamo messi bene per niente che perché 12 assi di abete non è che si fabbricano a caso bisogna che li troviamo noi ragazzi è insomma è insomma peccato che non ci stanno uscendo i log così potrei utilizzare anche un po' più di legno per fare un po' più di decorazione a questa isoletta che così francamente non è molto bella aspetta ce l'ho altre blu sì che c'è l'altro blu quindi possiamo fare così così cioè ma vi rendete conto oltre a fare la one block pure le costruzioni le faccio questa è una one block gara di costruzione oddio mi è venuta un'idea generale per un video raga mi sono appena dato un'idea generale per un video penso che la farò questa qui è una pecora di nome Andreina Andreina mi sembra il nome migliore per una pecora bianca che è venuta in una one block e cadrà nel vuoto a brevissimo non per causa nostra chiaramente ragazzi cosa spera sponato sponato qualcos'altro no è sempre Andreina Andreina puoi evitare di darmi le spalle è un pochettino irrispettoso da parte tua no 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 tu cadi no no vai giù vai giù grazie mamma mia ma quella roba lì che cos'è raga ma quella è una metina è una metina che si è piantata lì sotto drops migliorati quindi immagino che usciranno adesso anche dei minerali no vabbè ragazzi abbiamo anche una mucca e sapete il nome della mucca qual è? sì Giada mi sembra il nome più adatto da affiancare ad Andreina però io direi che qua è arrivato quel momento della giornata dove ampliamo un attimino l'isola perché è un po' preoccupante rimanere in questa zona ma sapete che a livello di building questa cosa la voglio dire la cobblestone con il warped non è così male cioè per niente male raga qua c'è un pezzo di carne ok grazie mi piace abbastanza però mi mancano ancora 6 assi di abete che vorrei avere il prima possibile gentilmente perché voglio completare questa missione ma cosa sta succedendo raga aiuto stanno uscendo i drops i drops migliorati ancora più me ne sono accorto e sono tanti quest troppi basta aiuto aspetta la lava fatemi buttare via la lava che qua insomma la situazione non ci piace però mi sa che ok meno assi di abete l'abbiamo fatti ora rimpiazza 48 blocchi di lava un attimo raga che fatemi trasformare tutti questi qua in legni planks volevo dire scusatemi vediamo un po' rimpiazza 48 blocchi di lava nel vulcano ok oh ma questo vulcano dove è uscito qualcosa potrebbe succedere oh mio dio questo è un geyser raga perché c'è un geyser vicino a me meno male raga devo stare attento ma sapete cosa mi tocca fare qua secondo me chiudere in qualche modo Andreina e Giada perché se no le perdiamo raga cioè questo è un dato di fatto purtroppo queste qui moriranno prima o poi io ve lo dico vi ho avvisati se no vi affezionate a loro poi e mi dite Marci ma non le hai trattate bene è vero non le ho trattate bene ma perché ci sono i disastri naturali che stanno facendo il loro decorso comunque dirigiamoci adesso verso il vulcano bellissimo raga questa è l'Etna non so se lo sapevate ma abbiamo l'Etna anche su Minecraft quindi amici siciliani fatevi sentire nei commenti per favore questo l'ho tolto ah si raga le toglio anche così eh tanta roba aspetta un attimo io a sto punto faccio una roba di questo tipo chiudo così tutto guarda quanti le tolgo così raga eroica questa cosa eh aspetta che qua mi servono un po' di blocchi nuovi li facciamo così eh questo ci sta ma aspetta ma sopra c'è tipo una canna fumaria o no aspetta che magari ah non vedi e chi l'aveva visto questa roba qua qui basta fare un po' così raga capite che li tolgo tutti anche da sotto e siamo veramente a posto secondo me 22 già così dovrebbero bastare 12 12 12 6 1 e abbiamo fatto tutto si gode craft è un armor in ferro io di ferro ne ho solo 6 dannazione allora aspetta che scendo water mlg e marci un fenomeno abbiamo fatto qualcosa potrebbe succedere ho paura aiuto a very short sandstorm is about to begin quindi ci sarà una tempesta di sabbia piccole amiche aspetta devo aiutare le mie amiche amiche ascoltate fidatevi di me state qua sui lati cercate di mettervi in salvo e non cadete perché siete le mascotti questo video e sappiate che magari tra i fan ci sarà anche una ragazza che si chiama Giada Andreina più difficile però potrebbe esserci una Giada ciao Giada se ci stai seguendo craft è un armor in ferro quindi ci possiamo portare un po' avanti vara quanti blocchi belli che stanno uscendo raga per fare la nostra casetta sarebbe carino fare una casetta ma non ne ho molta voglia quindi non la farò allora lì ci ho messo della lava raga così posso buttare le cose questo praticamente è diventato un cestino è diventato l'importante è che spero che vivamente Giada e Andreina non si buttino qua di dentro se no allora ascolta siete un po' invasive ve ne andate grazie mille non so si avvicinano così raga mi ha colpito siamo morti dalla lava ma nulla ci toglierà di trovare è uscito no è uscito un pappagallo raga sapete come si chiama lui si devo dire che pappa è il pappa è il nome perfetto per un pappagallo pappagallo rosso giallo e blu ma perché ci sono delle spugne aspetta che le prendo raga si sa mai ho paura che queste spugne qua possano servire a qualcosa poi mi faccio anche una crafting table già che ci sono ok e la mettiamo qua anche perché non ci ho pensato ma io posso fare tipo così raga right click for more eh ho capito ma se io tipo voglio fare così ah tipo devo fare oh mio dio oh mio dio ma che è sta cosa è un geyser what an mlg ma che potenza sto ragazzo raga sono fortissimo ce la siamo salvati c'è stato un disastro naturale chiamato geyser lo sapete cos'è un geyser raga nel caso lo sappiate iscrivetevi nei commenti e ditelo a magari qualcuno che non lo sa spawnano più cosa adesso no 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 che questo qua mi uccide Andreina già da pappa poi basta ci sono delle cose inederite qua raga queste qua me le prendo molto volentieri questa cos'è che ha share play 6 ma sai che oh ma quanto stavano veloce raga eh tu non sei però la mia amica non ho ammazzato la mia amica no infatti no eh non ti permette raga mi sa che è morto ah no pappa è ancora vivo meno male allora di ferro ne abbiamo 14 raga ma scusa la crafting table non era qua ah me l'ha tolta il geyser ragazzi ma non vedi te questa situazione allora facciamo così e ci facciamo di nuovo una crafting table quando metteranno le crafting table colorate me lo dite per favore perché mi sono rotto di non vederle colorate allora iniziamo a farci almeno questa roba qua e questa roba qua e poi ci pensiamo cioè il tornado adesso io dico no nella mia vita cosa poteva succedere se non chiaramente il tornado che mi ha fatto perdere i sei pezzi di ferro immagino no mi sono rimasti però mi è andata via di nuovo no dove è andata raga abbiamo perso Andreina non c'è credo abbiamo perso Andreina no raga è morta Andreina mi sa che è morta Andreina pappa vivo è Andreina dove è andata ragazzi dove è Andreina voglio sapere voglio vederla con i miei occhi è caduta vero è morta Andreina ragazzi un ripri nei commenti per Andreina per favore perché questa situazione non ce l'aspettavamo non ce l'aspettavamo non eravamo neanche pronti a questa cosa sinceramente no niente raga la crafting table non si può avere cioè è un po' impossibile impossibile avere una crafting table in questo gioco boh non lo so ma è sparita raga è sparita di nuovo sbaglio allora una due e dobbiamo fare questo qua tre finalmente abbiamo una full armatura in ferro eccola qua craft un armore in ferro ce l'abbiamo ottieni 20 blocchi di diamante radioattivo in che senso esattamente aspetta magari c'è un crafting che non ho visto di diamanti radioattivi radioattivi no non c'è niente ah eh ho capito ho capito adesso ho capito però qua magari io farei una roba di questo tipo che non si sa Mario non volevo farla diventare ossidiana ma non so cosa dire ragazzi allora stavo dicendo possiamo andare gentilmente da sono troppi blocchi tutti diversi non ci sto capendo niente raga allora voi starete sicuramente dicendo Marci ma perché non utilizzi le slab per andare dall'altra parte no non voglio utilizzare le slab io voglio andare senza le slab ok voglio sprecare tutti i blocchi possibili immaginabili che sono usciti da quel posto ok a very short cos'è il blizzard aiuto che è cos'è il blizzard raga no 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 cos'è voglio sapere cos'è prima di fare qualsiasi cosa aiuto che cos'è il blizzard raga lì c'è ancora allora Giada è ancora viva purtroppo Andreina è andata Andreina è andata bene io direi che ci troviamo qua dentro dire ho capito penso che sia un insieme di come dire mi sa che c'è un problema di base ok e sopra c'è una tempesta veramente cattiva e molto difficile da aiuto 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 ok ma si raga ma brilliamo tutto quanto brilliamo tutto quanto che ci serve tutto si si non cadiamo nel vuoto gentilmente qua prendi tutto qua che non so se ci può servire qualcosa ah là sono i diamanti ciao diamonds ciao diamonds ok ne mancano solo 9 raga avete visto qua ce ne erano tipo 5 eh infatti ne mancano solo 4 però non ne vedo ah lì sotto ok sono tipo qua sotto ah sono caduto ecco ne era caduto un altro raga devo pigliarne altre due raga purtroppo devo pigliarne altre due purtroppo ne devo prendere altri due e ah eccoli nell'angolo l'avete visti raga stanno nell'angolino lì quatti quatti che non li vedi ma io vi ho visti io vi ho visti ne manca solo uno ok preso scorteccia cioè adesso mi fa scortecciare i legni ora che li ho buttati tutti per terra ma che davvero io spero che escono dei legni dal one block raga perché sennò potremmo aver buttato via il video ah ma ragazzi ma eccoli qua ma sono spawnati di nuovo i legni allora no la meteora no la meteora no la meteora no non è giusto no 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 è diventato di nuovo notte subito porca paletta no 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 e no e no e no e non penso allora sì vabbè qua abbiamo la meteora il geyser l'importante è che Giada stia bene Giada sta bene Giada è ancora viva ma c'è un'altra meteora che si sta schiantando raga vabbè allora dobbiamo fare così così qui ho tutti i blocchi da scortecciare mi sa vediamo un po' quanti ne ho buttato le spugne raga mi sa che le spugne servivano sai ormai le spugne possono essere potenzialmente positive per qualcosa la facciamo così uno ah solar storm va bene e qualcos'altro che deve succedere fate mi sta facendo questa l'ammazza Andreina mettiamo in salvo Andreina Andreina ti metto in salvo io non ti preoccupare l'importante madonna mia raga Andreina stai tranquilla ti salverò la vita te lo prometto io te lo prometto basta che stai lì dentro non ti devi muovere da qua dentro stai lì no 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 l'acqua l'acqua per Andreina dov'è qua l'acqua si pre mamma mia torna a posto torna lì dentro torna lì dentro ma torna lì dentro ma che raga ci muore Andreina cioè Giada scusate come cacchio si chiama io sono veramente spaventato dalla situazione ma cosa sta su è morta l'acqua 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 è morta è morta Giada raga eh raga non potevamo resistere a questa roba era impossibile mi spiace Giada sta succedendo un po' di tutto in questo posto però eh mi siamo un po' esagerato mi sembra aspetta che qua abbiamo ancora cioè la missione più difficile raga la missione più difficile è scortecere gli alberi io non lo so veramente cioè la tempesta solare è incredibile 17 raga 17 non so perché siamo pieni di jungle log ok e sono quelli sono questi che escono adesso non ho capito il motivo quanti ne mancano ne mancano 5 raga ce la possiamo fare calma tutti prendiamo altri legni cosa abbiamo qua abbiamo un altro legno da strippare va bene questa è Andreina raga rimani viva no 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 raga no 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 il terremoto no il terremoto a me fa paura nella vita reale il terremoto quindi no terremoto no terremoto per favore grazie grazie no terremoto mi serve questo no ho buttato le spugne di nuovo devo ritrovarle in qualche modo magari servivano fa niente a chi se ne frega tanto riescono ok trocchi di legno scortecciati no ne mancava uno l'ho fatto io eh non me l'ha preso aspetta un attimo lo rifaccio sbemma no non è andato neanche questo ah forse perché sono i log ah no ok una casa è completamente allagata sistema è come non detto raga non avevo mai detto che serviva una spugna no no chi ha mai detto a Marci che serviva una spugna l'ho detto io due secondi fa e l'ho buttata normale che io la butti eh ok mettiamoci qua raga nella speranza che eschiano delle spugne di nuovo l'ho vista l'ho vista l'ho vista c'è una spugna qua ok però bisogna capire quanti ce ne sono una sola bisogna sperare che almeno ne eschiano 5 o 6 perché mi sembra che la casa ad occhio e croce sia abbastanza grande ok 13 penso che possano bastare e io direi che utilizziamo sempre il jungle ma di jungle ce n'è una marea no il geyser di nuovo no il geyser no niente ormai sono un fenomeno raga dream spostati che qua c'è Marci un altro geyser ah stavolta non m'ha preso godo ok qua c'è la porta di casa e immagino che io debba entrare qua dentro in qualche modo buonasera erca miseria raga ok a parte che qua basta fare tipo così esatto qui fai così qui fai così fai così fai così e forse non mi bastano per un pelo raga mi sa che non mi bastano proprio per un pelo allora qua siamo a posto in realtà ah c'è anche sopra però aspetta se c'è anche sopra è un bel problema aspetta mettiamola qua tipo eh raga c'è anche sopra c'è anche sopra ok devo andare a prendere un po' di spugna ancora va bene va bene si gode ragazzi si gode ok allora una di qui una di qua una di qua una di qua uno di qua uno di qui ultime quattro forse ci siamo raga dov'è l'ultima ah l'ultima è questo raga l'abbiamo fatta tutta eh finita ciao oh completo il parkour dei disastri questa è l'ultima ok sono caduto cioè incredibile io non so più cosa dire raga non so più cosa dire ah però dai allora siamo morti ma siamo rispondati al parkour mi sembra interessante questa cosa è stranissima questa cosa è ancora più aspetta questo qua però eh vedi fino a qua bisogna andare e lì dove devo andare ma sono blocchi soliti questi qua no no il geyser no via 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 raga no 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 il geyser non lo vogliamo noi ok come ci arrivo lì raga così sicuro non lo prendo l'ho preso l'ho preso l'ho preso ok eh e questa raga ah cioè quando le fai ah questa qui praticamente il geyser li ha trasformati così va bene meglio per me raga però quello lì è diventato lava e ah no è la lava ok no qua siamo a posto sempre eh sapete che è più difficile di quello che sembra questa cosa qua cioè sembra facile ma non è così raga vi prometto che adesso non sbaglio più allora eh capitemi può succedere che quelle cose facili sono le cose più difficili lo sapete vero adesso io mi butto qua diretto ma sono morto cioè vabbè è una cosa incredibile allora stavolta ce la faccio me lo sento lascia e qua nel cing cioè cosa rieccomi tornato ragazzi sì cosa c'era di difficile c'era che raga effettivamente si muore se vedo troppo danno da caduta eccoci qua ok questi sono facilissimi da fare ma è tutto facile in realtà il percorso ma io allora posso spiegare posso posso spiegare ragazzi posso veramente ve lo giuro che non era mia intenzione fare questo errore ah ma raga è impossibile questo salto ecco perché vedi che non è solo colpa mia facciamo così allora piazziamo questo blocco qua e torna tutto fattibile io vorrei sapere il creatore della mappa cosa gli è venuto in mente ok questo invece è fattibile questo non è fattibile raga quindi bisogna fare di nuovo così ok ve lo dimostro anche raga basta fare così vedete che se io salto da qua non posso proprio farlo ok allora e penso che qua ci sia stato un disastro naturale chiedo ai piani alti se posso piazzare dei blocchi perché non saprei come sta facendo i piani alti stanno già facendo i piani alti ok ok vabbè ma raga ma ci ma aspetta questo è un blocco ok 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 e ragazzi no 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 il geyser no via ho finito ho vinto ho vinto i disastri naturali ho vinto ce l'ho fatta raga è stato più difficile previsto ve lo garantisco infatti guardate cioè chi è che ma è rimasto io il pappagallo almeno o anche quello è morto cioè sono morti tutti è rimasto io una piccola marrone doomsday is beginning doomsday è quello che esplode tutto vero io penso che vi voglio salutare ci vediamo in un prossimo video da marci è tutto ciao a tutti ciao a tutti